Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte e al caffè, buongiorno a chi non c'è, e al mio amore buongiorno per dirle che lei si è per prima Buongiorno amici, dall'insieme delle informazioni disponibili risulterebbe che Luigi Di Maio, quando era ministro degli esteri di un governo dimissionario preposto alla sola gestione degli affari correnti e non autorizzata ad assumere decisioni straordinarie, abbia deciso di autocandidarsi alla carica di inviato speciale dell'Unione Europea nel Golfo, una decisione che dovrebbe essere stata avallata dall'allora presidente del Consiglio Mario Draghi. Draghi finora non si è pronunciato. È stato l'attuale vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri della cooperazione internazionale Antonio Tajani a sostenere che la decisione di candidare Di Maio è stata di Draghi. Non è la proposta di questo governo, ma di quello precedente. L'altro attuale vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha escluso l'assenso dell'attuale governo. Di Maio andrà a rappresentare forse l'Italia nel Golfo? Non a nome mio, non a nome vostro e non a nome del governo in carica, eventualmente fosse. Ieri tre eurodeputati italiani dei Verdi, Pier Nicola Pedicini, Ignazio Corrao e Rosa D'Amato, ex del Movimento 5 Stelle, espulsi proprio da Di Maio, hanno scritto al Consiglio dell'Unione Europea chiedendo chiarimenti sui requisiti in base ai quali Di Maio è stato ritenuto idoneo all'incarico. Un diploma universitario e dai tre ai sei anni di esperienza professionale rilevante sono requisiti che il Servizio Europeo di Azione Esterna richiede ai propri funzionari. Com'è possibile che non soddisfi gli stessi requisiti un rappresentante speciale dell'Unione Europea? Si legge in una nota congiunta. Nell'interrogazione rivolta al Consiglio degli Stati membri, che ha l'ultima parola sulla nomina, compaiono anche le firme di altri deputati degli stessi Verdi, ma anche di socialisti, di cui fa parte il PD e dei liberali. Perché, si legge ancora nella nota, una persona come Di Maio, che avrebbe a malapena i titoli per uno stage, dovrebbe rappresentarci in un'area strategica come quella del Golfo? Tommaso Lecca, corrispondente di Europa Today a Bruxelles, scrive che non è esclusa la possibilità che l'ex ministro degli esteri si sia autocandidato. Una vecchia dichiarazione dello stesso Di Maio avvalora quest'ultima ipotesi. In occasione della scelta di Emanuela Claudia del Re per il ruolo di rappresentante speciale dell'Unione Europea per Israele, avvenuta il 3 giugno 2021, quando lei era del Movimento 5 Stelle e ricopriva la carica di vice ministro degli esteri, Di Maio scrisse su Facebook «E' la prima italiana e la prima donna in assoluto a ricoprire questo ruolo e per questo sono orgoglioso di aver proposto la sua candidatura». Stando alle parole di Di Maio, la candidatura spetta dunque al ministro degli esteri. Di qui il sospetto che l'ex capo della Farnesina si sia guardato allo specchio e, una volta individuate tutte le qualità giuste per assumere il ruolo diplomatico dell'Unione Europea, abbia proposto il proprio nome a Bruxelles, magari con il benestare di Palazzo Chigi. Cari amici, ho vissuto come un'umiliazione per gli italiani il fatto che un giovane non laureato, che non parla alcuna lingua straniera e che commette errori anche quando parla l'italiano, che non ha mai avuto alcuna esperienza professionale di successo. A 27 anni si è diventato vicepresidente della Camera dei Deputati. A 32 si è stato nominato vicepresidente del Consiglio e ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali. A 33 anni ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. E ora, a 36 anni, sarebbe uno scandalo per l'Italia che Di Maio diventasse inviato speciale dell'Unione Europea nel Golfo. Tuttavia non possiamo dimenticare che, intanto che è stato al governo, quelli che oggi lo condannano ne tessevano le lodi. Quando Salvini capì di aver fatto un grossolano errore a far cadere il primo governo a Conte, di cui facevano parte il Movimento 5 Stelle e la Lega, il 18 settembre 2019 Salvini confessò che, pur di tornare al governo, aveva proposto a Di Maio di diventare lui il presidente del Consiglio al posto di Conte. Questa triste realtà di una democrazia svuotata di valori ed ideali, ridotta a partitocrazia consociativa, per cui l'unico scopo dei partiti è stare al potere, costi quel che costi, ci fa toccare con mano il collasso dello Stato. La Casa della Civiltà promuove un modello di Stato al servizio dei cittadini, molto meno oneroso, con un potere ridotto dei partiti, riequilibrando il rapporto con le comunità locali a cui spetterà la funzione di amministrare e di promuovere lo sviluppo del territorio. Andiamo avanti a testa alta e con la schiena dritta, forti di verità e con il coraggio della libertà. Con l'aiuto del Signore, insieme ce la faremo, a far rinascere la nostra civiltà, a salvare gli italiani, a riscattare l'Italia. Buongiorno amici.